Colonnello O'Neill, sono Felger. Abbiamo visto un Alcash. Sì, lo so. Restate al vostro posto. Ehi! Ma dove vai? Felger ci ha detto di non muoverci. Mayers, tu torna alla base e riferisci l'accaduto. E noi che facciamo? Noi cercheremo l'SG. Non preoccuparti. Ho studiato i progetti di queste navicelle. Le prigioni sono da questa parte. Sto arrivando, signore! A un piano. Dai, continuo così. Se qualcuno ancora non se ne fosse accorto, siamo arrivati. Spesso! Questa hop dipende solo da noi. Oh? Sta per operazione! È l'ora di operazione! Usa la parola operazione come tutti i mortali. Basta la voce! È tutto chiaro? Ci sono domande? No, signore. Anche se dovessi vedervi a terra agonizzanti che urlate il mio nome, non mi muoverò da qui. Colonello Neil! Colonello Neil! Io giuro che ti ammazzo. Vuoi smetterla, per favore? Non mi portare quella pistola! Che pe eh! Che pe che che è qui! Grazie.